Potrebbe chiamarsi Antropocene, la nuova era geologica che indica il dominio dell'uomo sulla Terra. La Commissione Internazionale di Stratigrafia sta valutando se intitolare alla specie umana un'intera epoca planetaria. La decisione ufficiale sarà presa nel 2016 e rappresenterebbe un passaggio storico. L'epoca in cui si è evoluta la specie umana, assumendo la stazione eretta, è il Pleistocene, seguita dall'Olocene, l'epoca che ha visto fiorire le civiltà. L'Antropocene sarebbe immediatamente successiva, ma non sarà facile accordarsi. Quando è iniziato davvero il dominio umano sul mondo? Secondo alcuni a partire dalla rivoluzione industriale, secondo altri studiosi, già dall'invenzione dell'agricoltura. Quanto durerà è una domanda a cui non ci può essere risposta. L'Antropocene si configurerebbe come un'era relativamente breve, ma ricchissima di cambiamenti per il pianeta. L'impatto dell'uomo sulla Terra è stato radicale, con una maggioranza di giudizi critici. Inquinamento, deforestazioni, estinzioni di specie animali, tutti effetti riconducibili al dominio umano, l'essere vivente intellettualmente più evoluto della storia terrestre. La natura, meravigliosa e selvaggia, è di per sé darwiniana. Il meglio adattato, il più forte, sopravvive e cresce. L'uomo sembra essere l'ultimo stadio di questa logica, su cui pesa la responsabilità morale e materiale di cambiamenti spesso drammatici.